Ancora un'ottima vittoria della Giorgio Tesi Group, Palacarrara inviolato ed ancora una vittoria arrivata con uno scarto importante, un più 25 che non ammette repliche. I biancorossi, eccezione fatta per la caduta a Forlì, hanno iniziato da dove avevano terminato lo scorso anno. Difesa, carattere, determinazione e costanza di rendimento. Se poi ci andiamo ad aggiungere anche Zach Copeland, il nuovo americano che dopo una settimana esordisce tra le muramiche con 19 punti, 5 rimbalzi e 4 su 10 da 3 punti, direi che c'è da stare allegri. La partita con Mantua non è mai esistita o stata in discussione, un dominio totale che ha portato gli uomini di brienza anche al più 31 ed una crescita esponenziale di tutti i componenti del gruppo. Da Del Chiaro a Pollone, da Capitano della Rosa a Magro, con un monumentale Weedle che anche con Mantua ha chiuso con una doppia-doppia da 12 punti ed 11 rimbalzi. Come ha dichiarato coach Brienza in conferenza post-gara, è quasi un peccato dover riposare domenica, perché sarebbe stato meglio andare a giocarsela d'Udine sulle ali dell'entusiasmo. La pausa però servirà a ricaricare le pile e proseguire l'inserimento di Copeland, già integrato nel gruppo, e migliorare l'intesa con Varnado, per una coppia di americani che potrebbe veramente aiutare Pistoia a togliersi delle soddisfazioni. Ha fatto un'eccellente partita e avere ancora il campo inviolato ci fa prendere tanta fiducia e oltre a questo il pubblico. Quindi sono di una bella soddisfazione. Ora abbiamo raggiunto Forlì perché ha perso contro Nardò e quindi è tutto da rivedere. C'è questo stop dove lavoreremo molto. Effettivamente giocare da subito sarebbe stata bella perché siamo caldi, però comunque anche questa settimana di stop per poi andare a giocarci altri due punti laggiù fanno comunque comodo.